Avrebbe compiuto quest'anno 43 anni il piccolo Giuseppe Bruno, vittima sacrificale dell'andrangheta, morto tra le braccia del padre nel settembre 1974, quando aveva soltanto 18 mesi. Giuseppe è una delle anime innocenti coinvolte loro malgrado in una lotta tra cosche, la dimostrazione che non è vero che l'andrangheta ai bambini non gli tocca, ma che piuttosto non esita a passarci sopra. Come quel giorno, l'11 settembre di 42 anni fa, quando la criminalità organizzata nostrana non ebbe dubbi nello sparare il padre Alfonso mentre teneva il piccolo sulle sue spalle. I colpi arrivarono dritti alla testa del bambino, un momento di tenerezza tra padre e figlio interrotto da quei colpi di lupara, colpi che rientrano nella faida iniziata pochi anni prima tra le due famiglie rivali dei Frisina Pellegrino e dei Gioffre, una faida che in soli tre anni aveva già portato al Camposanto 16 persone. Alfonso Bruno fu soccorso dalla moglie da Yolanda Gioffre, cugina di Vincenzo Domenico Gioffre, soprannominato Ringo, ex capo del clan Gioffre. L'uomo era autista di camion e secondo gli inquirenti in passato aveva lavorato alle dipendenze della famiglia del boss. Un mese dopo Alfonso Bruno viene ucciso, l'andrangheta non lo risparmia, nemmeno si è pagato la sua sopravvivenza con la morte di suo figlio. Tiziana Bagnato per la C News 24.